Altri due licei milanesi sono stati occupati lunedì mattina dagli studenti. Prima è toccato al liceo artistico Brera nella succursale di via Papa Gregorio XIV, poi l'istituto Pasolini, per un totale di 17 scuole occupate in città dall'inizio dell'anno. All'artistico Brera ci sono stati anche attimi di tensione, con l'intervento delle forze dell'ordine e con il vicepreside del liceo che è stato accompagnato in ospedale per accertamenti, probabilmente dopo aver sbattuto contro una porta. Secondo il racconto dei ragazzi dell'istituto, l'occupazione è iniziata intorno alle 7.30 di mattina, quando gli studenti sono entrati a scuola con l'intenzione di riunirsi in cortile per svolgere un'assemblea, ma comunque lasciando proseguire le lezioni all'interno delle aule per chi avesse voluto partecipare, soprattutto non volendo ostacolare lo svolgimento delle prove del concorso ordinario docenti che si sta svolgendo in questi giorni a scuola. Secondo gli studenti però il personale, accorgendosi delle intenzioni dei ragazzi, decide di chiudere tutti gli ingressi dell'istituto, così che all'interno sono rimasti circa 40 studenti, mentre gli altri, arrivati alle 9 per il secondo turno d'ingresso, sono rimasti fuori dalla scuola, provando ad entrare, con anche i carabinieri Ladigos che sono intervenuti sul posto. I ragazzi del liceo Brera, in linea con le numerose proteste studentesche e occupazioni di questi mesi, hanno deciso di mobilitarsi per far sì che si arrivi ad un radicale ripensamento del sistema scuola, in particolare sollecitando una didattica più inclusiva, interventi sull'edilizia scolastica e il benessere psicologico degli studenti. In particolare poi gli studenti hanno protestato anche contro dinamiche all'interno della scuola. I ragazzi accusano infatti la preside di mancanza di dialogo e di repressioni nei confronti delle loro richieste, che aveva portato già al dicembre scorso alla sospensione di 60 alunni, perché protestavano per il mancato funzionamento del riscaldamento a scuola.